Salgono a 44.595 positivi test covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia su 901.450 dapponi effettuati con un tasso di positività che sale al 4,9%. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 168 le vittime in un giorno. Aumentano i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 8.722 ed aumentano anche i pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore, sono 1.023.